Ritorneranno nelle scuole di tutt'Italia i giochi della gioventù, le Olimpiadi degli studenti, nate nel 1969, da un'idea del dirigente sportivo evocato Giulio Onesti. I ministri hanno sancito con un protocollo ad hoc la rinascita di una competizione nata 54 anni fa, che negli anni ha subito due interruzioni, una nel 96 e una seconda dal 2017 a oggi. È stato Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, a voler fortemente il ritorno dei giochi finanziati con una copertura statale pari a 11 milioni di euro. A Lecce è stata la tappa della cerimonia di apertura dei giochi stessi. Un momento di festa vera, tutti i ragazzi della Puglia sono dislocati oggi in questa presentazione tra Lecce e Bari, suddivisi per ogni ordine e grado di istruzione. Un'importante, importantissimo giorno di festa. Oggi si lancia il protocollo d'intesa di quei sei ministeri che hanno fortemente voluto che i giochi della gioventù ritornassero in vita in Italia. Voi sapete che invece siamo ormai agli ultimi minuti per avere l'approvazione definitiva dalla Camera della legge a mia prima firma per l'introduzione, quindi con legge dello Stato, dei giochi della gioventù. Quindi dall'anno prossimo tra protocollo d'intesa e legge noi avremo finalmente i giochi della gioventù all'interno delle scuole per avere una scuola di inclusione, per avere una scuola per evitare soprattutto al sud questa dispersione scolastica che esiste, insiste e questo è uno dei fattori più importanti. Saranno curati dal Dipartimento per lo Sport e Ministero dell'Istruzione e del Merito Sport e Salute, CONI e CIP. È importantissima per tutta la regione e credo per tutto il sistema scolastico, sempre più stiamo prestando attenzione all'attività motoria, sia come materia perché l'abbiamo inserita anche nella scuola primaria, sia proprio come attenzione alla salute.